Allora, Namaste, o meglio ancora, Namaskar, cose nostre. Io sono Angelo Verdini, sono un dirigente scolastico di un paese qua vicino che si chiama Pergola. Da circa 20 anni nelle scuole del mio istituto si coltivano orti biologici scolastici, aiutati anche da un valente agricoltore biologico, Paolo, che è stato già annotato per il figlio dell'anno. Quindi siamo diventati esperti e competenti. I semi che coltiviamo appartengono tutti alla biodiversità locale e regionale. I prodotti del nostro orto certificato confluiscono nella mensa scolastica. L'orto biologico è la materia preferita dagli studenti e la qualità degli apprendimenti è molto alta e diffusa. Nell'orto si formano futuri cittadini che sono attenti alla natura, alla sua bellezza, al rispetto dell'ambiente, ai valori della cooperazione e della solidarietà, al benessere fisico e psicologico, individuale e collettivo. Chiedo più attenzione alle istituzioni per le scuole che si impegnano a coltivare questa nobile arte della terra. Saremo molto felici se domani mattina Vandanna potesse visitare, magari per qualche minuto, il nostro orto biologico. Grazie. Grazie.